Ciao! Oggi vi mostro due esercizi veramente strong da effettuare con uno swissball per tutti coloro che vogliono mettersi alla prova mettono in crisi anche il superiore ma anche il colore il primo è un french press con i piedi sullo swissball il secondo è un pike drop up ora prendiamo la nostra spinta ci mettiamo i piedi sopra per rendere un po' più torso mettiamo la punta dei piedi in appoggio sulla spinta ci mettiamo in posizione del plank da questa posizione facciamo un french press quindi scendo e salvo scendo e salvo questo è il primo esercizio ora andiamo a vedere il pike drop up dove ci farà rinforzare il grande sale e i muscoli di tirata ci mettiamo sempre nella medesima posizione da questa posizione rullo indietro rullo avanti di che porto il mio corpo in pezzo di gambe dietro e su in questo esercizio è importante tenere sempre l'addome e lavorare con le braccia ben distese pensando di spingere forte il suono in un giro beh se dovete mettere una prova con questi due esercizi provano sono veramente tosti vediamo se il tuo livello con la swing ball è elevato poi fammi sapere con ci vediamo ciao ciao ciao